che ti va a vedere in programma. Allora, venerdì 13. Innanzitutto noi siamo cittadini organizzati spontaneamente nel Comitato Due Piazze Cittadelle Casali e ci opponiamo da alcuni anni alla realizzazione di un parcheggio sotterraneo in Piazza Cittadella, parcheggio che porterebbe alla realizzazione di 250 posti auto, 200 pubblici e 50 privati, perché questa piazza è di interesse storico, monumentale, è di fronte al Palazzo Farnese e contiene nel sottosuolo reperti archeologici che vanno dall'epoca rinascimentale a quella romana, questo attestato da indagini fatte dalla soprintendenza. Quindi un intervento estremamente impattante che noi riteniamo debba essere fatto altrove per fornire la città di parcheggio a nord e gli spazi ci sono. Quindi nell'ambito delle varie iniziative fatte da qualche anno a questa parte per cercare di opporci a questo parcheggio che comunque non è mai stato iniziato perché il Consiglio Comunale ha approvato nel 2008 una delibera che prevedeva questo parcheggio. Il contratto è stato stipulato nel dicembre 2012, i lavori dovevano iniziare nel 2013 e terminare nel 2015. A tutt'oggi non sono iniziati, non per la nostra opposizione, ma perché ci sono evidentemente dei problemi. fra le iniziative che noi stiamo cercando di promuovere insieme ad altri anche cittadini è quella di mantenere gli edifici esistenti, sia la stazione del Corriere, sia il mercato coperto. Sinceramente io ero per la demolizione inizialmente, ma poi mi sono convinto che è meglio mantenerli per riutilizzarli per delle funzioni che ormai hanno assunto e che sono utili alla città. Questi edifici hanno una loro dignità e in particolare cerchiamo venerdì 13 settembre, sabato 14 settembre, di fare dei lavori di piccola manutenzione, quindi una pulitura e un'imbiancatura con un colore bianco, grigio, chiaro, per restituire almeno alla facciata principale quella rivolta verso il Palazzo Farnese un aspetto decoroso, dignitoso, in modo che anche la piazza ottenga un aspetto migliore. Noi riteniamo che questo edificio che all'interno ha grandi spazi liberi, che è stata la stazione delle Corriere, ma anche come ricordava qualcuno poco fa è stata Balera, cioè era un ballabile, possa avere molte diverse funzioni appunto perché ha un spazio molto flessibile al suo interno e quindi potrebbe essere un luogo a servizio dello stesso Palazzo Farnese come luogo di informazioni, raccoglienza turistiche, scolaresche e vorremmo fare in modo che innanzitutto questa facciata diventi dignitosa e poi intraprendere i colloqui, dei dialoghi con l'amministrazione comunale per cercare di indurre l'amministrazione stessa a fare anziché un intervento di trasformazione urbanistica come intervento di restauro, di ripressione filologico e di valorizzazione di questo luogo come luogo di interesse storico, culturale e per l'accoglienza turistica, quindi per valorizzare la funzione tipica di questa piazza. Alla prossima Grazie.